sta veramente in difficoltà ecco finalmente è arrivato il bagnino che non c'era qua purtroppo viene sbattuto sopra gli scogli arriva 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 ormai è passato arriva il bagnino qui non c'era nessuno ragazzi il bagnino l'hanno dovuto andare a chiamare sull'altra spiaggia è assurdo è assurdo come cazzo siamo messi meno male meno male grazie